Ok, si va, scattate gli amatori fascia 1 Marco Zontone, Radio Dineri, di soccorre E' meravigliosa la Chioggia, la Chioggia è veramente molto A più di 50, a più a più, a più, a più, a più, a più, a più! Guardiamo il mercato con i passaggi Ora vediamo il nuovo campanato della piattazza della Corsa L'hanno già prontato la scaminata, attenzione L'hanno già prontato la scaminata Guardi per Dino e Simone Funtina che fa lo tandem al domande della Corsa con le loro macchine Tricolone, Nuovo e Florica che non manca molto la scaminata oltre al transgo terzo della bomba subito al centro a camionene per il rischio girando il postulatino quindi e hanno fatto finivamente la di un terrenissimo cercheremo di dare i gettaps perchè riguarda le prime posizioni dei vittimità uno dei grapio assolutamente più espettacolari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti